Ben ritrovati gentili telespedatori, nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. In apertura la cronaca ci porta a Trieste, parliamo di fatture false scoperte dalla Guardia di Finanza, pensate fatturazioni per 40 milioni di euro. Ci sono due persone che sono state arrestate, poi finite ai domiciliari, altre tre invece risultano indagate. Una frode carosello di fatto che permetteva a questa associazione di non pagare l'IVA e di conseguenza anche di lavorare a scapito dei commercianti regolari. Sentiamo il servizio di apertura del nostro telegiornale. I finanzieri della compagnia di Prosecco, su disposizione del GIP, hanno dato esecuzione a due provvedimenti di arresti domiciliari nei confronti di due italiani ritenuti i principali responsabili di un'associazione per delinquere finalizzata ai reati tributari come l'emissione di fatture inesistenti per oltre 40 milioni di euro e dichiarazioni fraudolente, cinque le persone indagate e attive nel settore commerciale dei prodotti per la casa. L'operazione trae origine da una verifica fiscale che è stata avviata ancora all'inizio del 2018. Le investigazioni hanno portato alla luce di un'associazione delinquere che attraverso un preciso e strutturato disegno criminoso aveva dato vita a diverse società estere prive di qualsiasi struttura commerciale e patrimoniale nei rispettivi paesi di residenza. Le stesse invece erano gestite direttamente a Trieste e utilizzate per la interposizione fittizia nel meccanismo delle cosiddette frodi carosello. La fittizia e interposizione delle società aveva lo scopo infatti di neutralizzare, secondo gli investigatori, gli effetti dell'IVA che negli scambi intracomunitari, in questo caso solo simulati, consente agli operatori di effettuare operazioni avvalendosi del titolo di non imponibilità. Il successivo passaggio del disegno criminoso ha previsto la creazione e la interposizione di numerose società italiane e cartiere, le quali, dopo aver acquistato le merci dalle società estere, le rivendevano ai clienti italiani, accumulando così stenti debiti IVA nei confronti dell'erario che omettevano sistematicamente poi di versare. In questo modo i soggetti economici coinvolti nella frode riuscivano a vendere prodotti per la casa a dei prezzi sensibilmente inferiori a quelli praticati dagli altri onesti operatori commerciali, realizzando in questo modo delle vere e proprie forme di concorrenza sleale. Sulla strada nessun segno di frenata. Stefano Vignotto si schianta con l'auto contro un platano sulla Jesolana e perde la vita. Il 39enne, originario di Cavallino Treporti, ma ora residente alla Tisana con la compagna, ieri sera stava percorrendo la sua Ford C-Max, la strada metropolitana 42, nel tratto compreso tra Lugugnana di Porto Gruaro e Sindacale di Concordia Sagittaria. Non erano ancora le 23.30 quando è arrivata la richiesta di aiuto al 118. Sul posto, nella località di Viola del comune di Porto Gruaro, sono arrivati i sanitari del 118 con i vigili del fuoco. Purtroppo però il loro intervento non è servito a salvare la vita all'uomo. Vignotto era partito dalla Tisana con direzione Jesolo, con ogni probabilità per andare verso la casa dei genitori a Cavallino. Purtroppo però non vi è mai arrivato. Dopo aver imboccato la SM42 a San Michele Tagliamento, ha percorso circa 5 chilometri per arrivare nel lungo rettilineo che da Lugugnana porta a Sindacale. Dopo aver passato l'incrocio semaforico che porta alla Brussa, il 39enne ha continuato la corsa, schiantandosi. Poco dopo, l'auto è andata a finire contro uno dei tanti platani che costeggiano la Jesolana, apparentemente senza un perché. Sull'asfalto, infatti, nessun segno di frenata con la Ford che è uscita di strada, conficcandosi contro l'albero. Un botto impressionante, dovuto di certo all'alta velocità. Nello schianto il motore della C-Max è volato via, finendo poi a diversi metri di distanza, con Stefano Vignotto che, schiacciato nell'abitacolo, è stato poi sbalzato parzialmente fuori, finendo praticamente sotto la sua autovettura. Per i soccorritori l'uomo non si è praticamente accorto di nulla, perdendo la vita nell'impatto. Con ogni probabilità il 39enne è stato colto da un malore o comunque si è addormentato mentre era alla guida dell'auto che si è poi spostata dalla careggiata, finendo per schiantarsi. Tutto è al vaglio dei carabinieri di Villanova di Fossalta, intervenuti per rilevare l'incidente. Ed è toccato proprio ai militari, diretti dal maresciallo Simone Muccina, informare nel cuore della notte i genitori nello sventurato giovane che ieri mattina hanno riconosciuto il figlio nell'obitorio di Porto Gruaro. E ora cambiamo pagina, andiamo a Pordenone, parliamo della riqualificazione energetica di ben 90 edifici nel cuore appunto del capoluogo della destra Tagliamento. A Pordenone, un vecchio palazzo degli anni 70 diventa un edificio completamente green e moderno. Tutto questo grazie a una riqualificazione energetica effettuata da una ditta privata sul condominio Mallorca 2 in via Volta dei Querini a Borgo Meduna. La riconversione porta risparmi energetici di 45 kWh per metro quadrato e minori emissioni inquinanti pari a 18 tonnellate di CO2. Con questa riqualificazione raggiungiamo di fatto due obiettivi. Un primo obiettivo è quello di tenere conto della sostenibilità dell'ambiente, quindi un efficientamento energetico che va a favore dell'ambiente. Ma dall'altra parte aiutiamo anche la comunità nel avere un maggior valore dell'immobile perché con questo avanzamento energetico comunque anche praticamente gli immobili acquisiscono valore. L'operazione porta anche benefici fiscali ai condomini. Questa è stata la sfida anche di riuscire a portare come detrazione fiscale al 75%, ma non solo. La riqualificazione è stata anche nei sensi della composizione architettonica per quanto riguarda la composizione cromatica. Presenta al taglio del nastro anche il sindaco Ciriani, rappresentanza del comune, che ha approntato un piano da milioni di euro per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici. Se l'amministrazione pubblica investe decine di milioni di euro per migliorare le strade, gli edifici pubblici, gli impianti sportivi, è auspicabile che a fronte anche di importanti sgavi fiscali che lo Stato mette a disposizione da lungo tempo ci sia qualcuno che vuole contribuire insieme al pubblico a rendere il pallone più bella, più accogliente e più attrattiva. L'intervento è significativo sul piano ambientale perché interviene su una delle maggiori fonti di inquinamento. Sappiamo che uno degli elementi principali dell'inquinamento dell'aria è proprio quello determinato dalla quantità di polveri e di emissioni che vengono fatte dalle caldaie private. Andare a fare un intervento in cui si riduce molto l'utilizzo delle caldaie perché si dà la possibilità a un edificio di essere confortevole da un punto di vista termico, con i cappotti, l'isolamento consente di abbattere le emissioni e ridurre fortemente i consumi. La cronaca ancora da Pordenone per parlare di un uomo di 43 anni originario della Nigeria che è stato accompagnato al centro di permanenza per il rimpatrio di Torino in esecuzione di un decreto di espulsione che era stato applicato dal questore di Pordenone Marco Dorisio. L'uomo era risultato coinvolto nel 2008 in un ampio contesto di traffico di cocaina, tanto da essere stato identificato come il corriere di stupefacenti. Nel suo intestino erano stati trovati 72 ovuli di cocaina per un peso di 845 grammi. Nel tardo pomeriggio di giovedì scorso l'uomo si è presentato in questura proprio a Pordenone e ha denunciato qui lo smarrimento del proprio portafoglio che conteneva i documenti di identificazione tra i quali la carta di soggiorno e la carta di identità. Dagli accertamenti però è emerso che l'uomo era stato arrestato a Brugnera il 14 febbraio 2008 e poi condannato con una sentenza del Tribunale proprio di Pordenone e della Corte d'Appello di Trieste per detenzione ai fini di spaccio di cocaina con espulsione appena espiata. Il provvedimento a cui non aveva ancora ottemperato e ora è stato appunto trasferito al centro di rimpatrio di Torino. Cambiamo pagina, andiamo a Udine dove è stato presentato in Fondazione Friuli il quaderno di Cantiere Friuli Nuova Emigrazione e sentiamo di che cosa si tratta. Rittore Pinton, anche all'Università di Udine come in altri Atenei, anche come in Italia insomma esiste il fenomeno della mobilità, in alcuni casi della fuga, del loro ritorno dei cervelli, dei ricercatori. Qual è la sua percezione del fenomeno e che cosa può fare l'Università sia sul fronte della mobilità che della fuga, del brain drain? Certo. Allora, diciamo che il fatto che sia un fenomeno nazionale non è una cosa che consola ma ovviamente costringe a pensare a come arginare e soprattutto comprendere il fenomeno. Questo è il motivo per cui si fanno studi come questo che verrà presentato oggi molto importante. D'altro canto che cosa dobbiamo fare noi come Università? Innanzitutto se sono studenti in mobilità bisogna renderli affezionati ai nostri corsi e quindi possibilmente rendere attrattivo la persecuzione degli studi per l'intero percorso nella nostra Università. Ma credo ancora di più è rendere attrattivi per gli studenti che vengono da fuori e questo è molto importante perché naturalmente non si può pensare che di bloccare la fuoriuscita, la mobilità ma andare in un pareggio, magari in un attivo, fra quelli che escono e fra quelli che entrano. Il fatto poi che ci sia una certa quantità di persone che decidono comunque di fare un percorso, tentare un percorso di vita e professionali fuori dal nostro paese che credo che sia un problema soprattutto relativo alla percezione di una scarsa possibilità di collocazione nel mondo del lavoro secondo quelle che sono le loro professionalità e su questo credo che una riflessione complessiva vada fatta e avviata. Ci sono andate a investire risorse? Beh, risorse vanno sempre investite. Credo che il problema adesso è un po' di mismatching, come si dice, un disallineamento tra quella che è la capacità formativa delle università, dell'alta formazione e la richiesta di queste alte professionalità da parte del mondo produttivo, cosa che è molto più sviluppata in altri paesi, anche solo della comunità europea. Questo i giovani cominciano a percepirlo. Il governo italiano prova a fare delle cose, ci sono degli incentivi fiscali, delle agevolazioni fiscali per chi rientra ma forse non basta. Beh, tutto aiuta, credo che vada fatta proprio una politica anche di aiuto, di sostegno e supporto al mondo produttivo, perché ci siano, mondo intendo produttivo in senso lato, anche il mondo culturale come si sta verificando, perché ci sia una necessità, si realizzi la necessità di utilizzare competenze quali quelle che formano le università. Ecco, da questo punto di vista, se no ci sarà per forza di cose un abbassamento, un livellamento delle competenze, perché anche le università si adeguaderanno alle richieste. E ora nel capoluogo di regione a Trieste, dove l'assessore Bini, insieme a Rosolene, hanno riconvocato la Flex, l'azienda Flex, al tavolo della crisi per cercare una scappatoia per i tenti. Lavoratori. Assessore Bini, ieri la sua collega Rosolene ha incontrato la proprietà dell'azienda Flex, oggi insieme con l'assessore Rosolene avete incontrato i rappresentanti dei lavoratori, un'azienda sana nel complesso che vive però una congiuntura un po' problematica, e meno dal punto di vista dei lavoratori che sono inquieti. Beh sì, le congiunture problematiche, come le definisce lei, riguardano l'economia del nostro paese, quindi anche la Flextronics si trova ad affrontare dei trimestri con delle produzioni in calo rispetto agli anni precedenti. Come ha detto giustamente, ci troviamo di fronte a un'azienda comunque molto seria, molto strutturata, che ha ottemperato quelli che erano gli accordi con il Mise e le perplessità che ci sono state palesate dai sindacati sono assolutamente legittime, il compito mio sarà quello di convocare, riconvocare l'azienda ad un tavolo qua in Regione per fare degli approfondimenti specifici su delle tematiche che ci sono state manifestate. Quindi la Regione c'è, sia nei confronti dei sindacati, ma anche nei confronti degli imprenditori. Cerchiamo di lavorare, io dico sempre, di squadra, tutti assieme, per cercare di passare a questo periodo non proprio felice per l'economia del nostro paese. I nostri servizi e i nostri live li trovate sulla pagina Facebook di Media24. Ci fermiamo con questa edizione, grazie a tutti per aver stati con noi, rimanete con la nostra rete e a risentirci. Alla prossima!